Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre invito a iscrivervi a un like, condividere e commentare. Oggi si parla di truffe e di una truffa che è ritornata. I truffatori o si inventano nuove truffe oppure rispolverano vecchie truffe e le attualizzano. Questa truffa coinvolge l'Inps. Sono settimane che l'Inps informa tramite i canali social Facebook, Twitter di questa truffa ed è una truffa che invita a un pagamento residuo perché è una fantomatica email di sollecito di pagamento di un importo residuo. c'è l'importo originario che sono qualche centinaia di euro e l'importo residuo è pochi euro, neanche 2 euro in alcuni casi. La mail sembra abbastanza credibile. Date un occhio a quello che è il link perché già da lì potete accorgere il link sia di pagamento sia l'indirizzo mail di provenienza ma soprattutto nell'e-mail viene citato gentile cliente. Allora tutti quanti noi cittadini italiani e non all'Inps non siamo clienti. Al massimo siamo utenti e poi non arriva una mail generica ma gentile, Luca, Giannolo, bla bla bla. Quindi già questo dovrebbe metterci in allarme. Se si prosegue sul link di pagamento, se va bene, se ne dico io se va bene, venite truffati nella cifra. Quindi non sono un euro tanto, novanta, due euro, quello che è, ma saranno centinaia, migliaia di euro. Se va bene, perché se va male vi rubano i dati della carta di credito. Quindi state ben attenti, condividete questo video, informate soprattutto, mi rivolgo alle persone giovani o comunque miei coetanei, informate di questa truffa, soprattutto le persone anziane, hanno una conoscenza di truffe e di alcune dinamiche di pagamenti online inferiore, hanno una conoscenza inferiore a quella che può avere qualcuno che è più giovane. Quindi mettiamo in guardia i nostri cari che sono maggiormente esposti. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito nuovamente a condividerlo, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.